Ciao, oggi vi preparo delle patate in padella, molto semplici, con rosmarino, che ho imparato a fare da mia madre. Per prima cosa andiamo a pelare le patate. Da questo punto, dopo averle lavate, non resta che tagliarle a fettine sottili. Se avete uno di quegli strumenti apposta, perdiamo un attimo. Io purtroppo non ce l'ho, quindi mi tocca farlo col coltello. Comunque non negare. A questo punto, in una padella bella ampia, aggiungiamo un filo d'olio e le nostre patate. Infine aggiungiamo una manciata abbondante di rosmarino e del sale. Le facciamo cuocere, girandole abbastanza spesso, finché non si forma una corticina sulla maggior parte delle nostre patate. Comunque dopo vi faccio vedere il risultato finale. Ora le nostre patate sono pronte. Verso metà cottura ho abbassato un po' la fiamma, perché avendole tagliate col coltello non mi sono venute tutte uniformi e quindi c'erano un paio che erano più grosse e non erano cotte del tutto. Comunque se voi riuscite a farle più uniformi non avrete bisogno di abbastanza nella fiamma. Buon appetito!